Ben ritrovati al Forum Salute di Irpinia TV. Oggi parliamo di obesità e di chirurgia bariatrica. Lo facciamo con il dottore Stefano Cristiano, responsabile del centro di chirurgia bariatrica della Casa di Cura Santa Rita. Dottore, grazie per essere qui. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla addirittura di globesità. Perché? Eh sì, perché lobesità oggi va considerata una vera e propria epidemia dal punto di vista patologico. Una malattia in grandissimo momento in tutto il mondo occidentale, addirittura anche nei paesi in via di sviluppo, come l'India per esempio, che ha un'altissima incidenza. Per cui le strategie per combattere questa patologia devono essere di tipo multispecialistico e devono essere anche di tipo internazionale. Perché si tratta di una vera, diciamo, epidemia che porta con sé, poi associate, tutta una serie di altre patologie, come il tumore, il diabete. Quindi curando l'obesità si possono avere dei risultati anche per quanto riguarda queste altre patologie. Esatto, per cui è importante incidere su quella che è la causa primaria per poter anche abbassare le incidenze di queste altre patologie così gravi. Ecco perché rappresenta una problematica che ha acquisito così importanza a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui la stessa organizzazione ha dato questa definizione di globesity. Dottore, quando è che una persona può definirsi obesa? Guardi, non è soltanto dal livello del peso corporeo come molti credono, in realtà tutti noi specialisti facciamo riferimento a un indice che è l'indice di massa corporea, che è un rapporto tra peso e altezza del soggetto. Per cui dobbiamo stare ben attenti perché anche un soggetto che, tra virgolette, noi possiamo considerare normale perché sta nei limiti dei 90 kg, ad esempio, se è alto 1,60 diventa per noi già un soggetto che rientra nelle fasce. È un fatto di proporzione. È un fatto di proporzione. Senta, dottore, ma obesi si nasce o si diventa? C'è una predisposizione, una familiarità all'obesità? Sicuramente c'è una predisposizione familiare, non tanto, questo lo si sta studiando, non soltanto geneticamente, ma soprattutto nei modi e nei comportamenti di quella famiglia. Noi che curiamo questa malattia sicuramente abbiamo nelle nostre casistiche, casistiche di intere famiglie. Perché questo? Perché nell'ambito di una famiglia ci sono dei comportamenti alimentari errati, questo sicuramente incide. Obesi, dobbiamo dire, gran parte si diventa perché il mondo occidentale lo è diventato nel corso dei decenni. Quindi i modi e i comportamenti di vita sono fondamentali allo sviluppare obesità. Allora una vita molto sedentare come quella oggi, davanti al computer, una vita molto comoda, gli stimoli pubblicitari, alimentari, eccetera, incidono sicuramente sullo sviluppo di questa patologia. Quindi, dottore, cambiando lo stile di vita, diciamo, si può dare inizio già ad un approccio terapeutico? Assolutamente. Tanto è vero che l'approccio terapeutico a questa patologia è un approccio di tipo multidisciplinare, così si dice. Cioè nei nostri gruppi di specialisti, in particolare della chirurgia bariatrica, il chirurgo rappresenta l'attore principale, ma attorno a lui ruota una serie di specialisti importantissimi, il nutrizionista, lo psicologo, per non parlare poi di tanti altri, l'endocrinologo, l'ortopedico, il fisiatra, e l'approccio al paziente va fatto in maniera multispecialistica. Ma quindi, diciamo, prima di arrivare dal chirurgo si tentano anche altre strade? Assolutamente. I nostri ambulatori multispecialistici prendono il paziente, diciamo, anche dal paziente, prendono in considerazione il paziente dal paziente sovrappeso al grandissimo obeso. L'approccio è differente. Quindi se il primo approccio consiste naturalmente in una terapia nutrizionale associata a un comportamento cognitivo-comportamentale gestito dallo psicologo, laddove poi queste terapie nel corso degli anni non sortiscono i dovuti effetti, allora solo in quel caso sarà indicato il passaggio per la chirurgia bariatrica. Ecco, quando è che si fa ricorso alla chirurgia? Esattamente, noi abbiamo delle linee guida, sì, noi abbiamo delle linee guida proprio messe a punto a livello internazionale, che sono estremamente restrittive, che riguardano dei pazienti che per almeno 5 anni hanno seguito delle terapie di questo genere, seguite da un nutrizionista, da uno psicologo e non hanno ottenuto l'effetto desiderato, allora questi pazienti, solo questi pazienti possono essere indicati al chirurgo per trattare. Questo chiaramente perché il fine della chirurgia bariatrica è un fine salutare, cioè migliorare non è estetico sicuramente, quello estetico lo diventa come seconda chance, il fine essenzialmente di tipo salutare. Ecco, ci sono diverse tecniche di chirurgia bariatrica? Sì, le tecniche in linea di massima, noi abbiamo due grandi gruppi di tecniche, le tecniche cosiddette restrittive, cioè che, se si capisce bene dalla parola, riducono l'introito alimentare, poi delle tecniche malassorbitive, cioè che riducono l'assorbimento alimentare, tra queste poi delle tecniche miste che agiscono sui due versanti. È logico, possono ben capire tutti, che le tecniche restrittive sono le tecniche in genere più semplici, di primo approccio, oppure che riguardano gli obesi, tra virgolette, più semplici. Quando siamo di fronte a degli obesi importanti o degli obesi che hanno un grande disordine del comportamento alimentare, abbiamo bisogno di tecniche che non siano soltanto restrittive, ma siano anche un po' malassorbitive, se vogliamo ottenere il risultato. Quindi voi, diciamo, avete una scala di criteri in base a quale scegliete, se fare un intervento o un altro intervento? Assolutamente, anche in questa decisione, in questa indicazione, hanno un grande ruolo gli altri specialisti insieme al chirurgo, che lavorano proprio a fianco del chirurgo, sia nutrizionista, sia lo psicologo, nella scelta dell'intervento esatto, perché l'intervento non riguarda soltanto il livello di indice di massa corporea, ma riguarda anche le abitudini al soggetto, cioè se il soggetto è un grande mangiatore di dolci oppure un grande mangiatore di cibi salati, cambia assolutamente l'indicazione dell'intervento, anche a parità di peso corporeo. Quindi anche questo influisce sulla scelta? Allora, ci sono degli atteggiamenti alimentari compulsivi, il paziente che si sveglia di notte per mangiare, per svuotare il frigorifero, il paziente che fa un grandissimo uso di bibite dolci, sono tutti pazienti molto diversi, ma cambia anche l'indicazione in relazione all'età, l'attività del soggetto, quindi la decisione del tipo di intervento deve essere, va studiata proprio pennellata sul paziente. Senta dottore, sono interventi molto invasivi? No, questo assolutamente no, sono interventi estremamente complessi e difficili, vanno fatti da chirurghi particolarmente esperti, in anestesia generale, però sono interventi che oggi noi facciamo totalmente la paroscopia, quindi in tecnica mini-invasiva. Questo ha un ruolo fondamentale perché l'obeso che va sul tavolo operatorio, per noi chirurghi per garantire un rischio, diciamo, minimo, dobbiamo garantire che l'obeso riprenda la sua attività fisica immediatamente, quanto prima, proprio per evitare quelli che sono gli unici rischi che l'obeso realmente corre, come l'embolia, la stasi venosa. Allora, è importante... Questi sono rischi che poi possono presentarsi anche dopo l'intervento? O solo durante l'intervento? No, questi sono rischi che si possono presentare nei primi tempi dopo l'intervento, ma in tempi precoci. sono rischi che oggi con la chirurgia mini-invasiva, con la chirurgia laparoscopia, abbiamo assolutamente abbattuto, sono quasi, diciamo, ridotti vicino allo zero. Ecco, dottore, mi spiega un po', diciamo, le due tecniche, vorrei capire un po' meglio il restringimento, in effetti che cosa fate? Allora, l'intervento restrittivo più importante, più diffuso al mondo è il bendaggio gastrico che molti pazienti conosceranno e consiste in una vera e propria fascetta che noi inseriamo alla bocca dello stomaco, riducendo in questa maniera l'introito alimentare e facendo in modo che il paziente, grazie a questa fascetta che poi è regolabile, regolabile da noi attraverso una piccola valvolina sottocutanea invisibile per gli altri, ma che il chirurgo conosce, è possibile gestire la quantità di alimenti che il paziente quotidianamente ingerisce, provocando una sazietà precoce. Ma quindi, diciamo, questo non è, diciamo, che ti toglie il grasso, cioè ti evita di peggiorare la situazione? No, ti consente di ridurre in maniera graduale, messe per messe, il peso corporeo fino a raggiungere il tuo peso ideale. Ma quindi poi comunque c'è un dimagrimento poi, diciamo, che viene gestito, viene gestito e controllato. Sicuramente la maggior parte del dimagrimento avviene nei primi sei mesi. Nei primi sei mesi si raggiunge proprio il dimagrimento voluto per circa il 90%. Diciamo, non è un intervento tipo liposuzione che assorbe? No, questo tipo di interventi viene effettuati, è necessario, però è una fase successiva. Si tratta in quel caso del cosiddetto rimodellamento corporeo che noi facciamo al paziente nel momento in cui ha raggiunto il suo nuovo stato e ci sono, consideriamo, pazienti che dimagriscono anche 100 kg, quindi immaginiamo... In quanto tempo? In media? In media nel giro di un anno, quindi non tanto, cioè nel giro di un anno e mezzo il paziente già si assesta al suo peso normale. Quindi comunque il paziente dopo dovrà sottoporsi ad una dieta, diciamo, continuare comunque nel percorso, non hai fatto l'intervento, finisce lì. No, no, e questa è la funzione dell'equipe multidisciplinare. È l'inizio di un nuovo percorso. Assolutamente, l'equipe multidisciplinare si sposa, come noi diciamo, questi pazienti, si sposa a vita quasi, nel senso, ne prende cura prima dell'intervento, durante l'intervento, ma soprattutto dopo l'intervento. E quindi c'è anche la possibilità che poi un paziente debba fare anche un secondo intervento? Sì, e questo secondo intervento è quasi sempre un intervento di chirurgia plastica. Di chirurgia plastica va fatta da persone molto esperte che tendono, che hanno come obiettivo il rimodellamento di questo corpo che ha assunto un altro tipo di situazione. Questi interventi di chirurgia plastica può avvenire in più tempi, nel senso che se si tratta di una donna, ad esempio, potrebbe darsi che sia necessario ricostruire l'addome, il dorso in un unico tempo, ma successivamente il seno, successivamente le braccia, quindi potrebbe avvenire anche più. Quindi più interventi per rimodellare poi il corpo. Assolutamente. A questo punto anche per una funzione estetica, non solo salutare. In questo caso essenzialmente per una funzione estetica, però è importante sul piano psicologico, perché altrimenti aver ottenuto poi questa grande riduzione del peso, può essere un grande successo per il chirurgo, però un successo diciamo parziale per la paziente. Senta dottore, siamo in chiusura, si fanno parecchi interventi di questo tipo in Italia? Voi ne fate parecchi? L'Italia è uno con la Francia e gli Stati Uniti, è il paese dove si fanno il maggior numero di interventi al mondo, anche perché è uno dei paesi che ha la più alta incidenza di obesità al mondo, insieme agli Stati Uniti e la Francia, è presente gli specialisti che occupano le prime posizioni al mondo per numero e per qualità di interventi. E qui da noi se ne fanno parecchi? Qui da noi in Campania se ne fanno moltissimi, la Campania conta insieme al sottoscritto altri due centri che sono di riferimento nazionale, forse è la regione che conta un maggior numero di centri che sono accreditati dalla società italiana di chirurgia e l'obesità per qualità e numero di interventi. Anche un maggior numero di obesi forse? Sì, il territorio conta, consideriamo che la Campania è oggi forse a livello europeo la regione che ha la più alta incidenza di obesità adolescenziale. Di questo poi magari parleremo qualche altra volta, perché poi c'è tutta una serie di regole che vanno seguite assolutamente. Dottore, io la ringrazio, ringrazio anche tutti voi per averci seguito, noi ci vediamo domani. Dottore, io la ringrazio anche tutti voi per averci seguito, noi ci vediamo domani. Grazie a tutti.